a tutti guardate questa luce perché io sono il vostro signore inchinatevi incinocchiatevi e succhiate tutto il mio nettere la mia sborra e da un bel po' che non ci vedevamo patatine pisellini miei che fine avete fatto mi avete abbandonato neanche mi avete cercato oggi siamo qua a parlare i gusti del terrore la recensione più seria arriverà fatta da quell'inetto pezzo di merda di non mi ricordo neanche il nome come si chiama quell'essere lì il capo del canale e io sono superiore a lui allora vogliamo i gusti del terrore 1995 film molto per ragazzini con quest'aria un po' alla gunis contro questo gelataio che si aggira per le strade a prendere i bambini avrei voluto un qualcosa in più ma siccome un horror incentrato sui ragazzini giustamente non si può esagerare avrei voluto un po' di tette un po' di culo un qualche scopamento un po' un po' di tette invece non sono stato accontentato volevo vedere così io mi prendevo il lubrificante l'olio per friggere e mi iniziavo a segare davanti a queste immagini pornografiche invece non sono stato accontentato di niente saluto i miei discepoli più affezionati angelo vuoi assaggiare il mio gelato che ha sapore di coppola di minchia lo vuoi assaggiare lo vuoi barbara tu vuoi favorire poi ci sono anche le palle anziché le palle gelato ci sono le mie palle che stanno un po' di asfro avete presente quelle palle dure che erano asfrose ecco hanno quel sapore lì ma io ora vi lascio all'unboxing di quelli inetto se volete passare una serata con quella magia degli anni 90 quello quell'horror di una volta che ormai non tornerà più non si farà più e noi piangiamo su questo dove si esagere dove si si tentava un po' tutto questo fatto del gelataio assassino ormai chi cazzo le fa più una cosa del genere ormai abbiamo sempre i soliti film seri per i ragazzini non c'è più niente non c'è più nulla ormai o voi che entrate per come che si diceva c'è una signora qua scusi come si diceva o voi che entrate perdete ogni speranza come si dice e risponda lei dica qualcosa ignorante ma lei non sa un cazzo sa solo succhiare i cazzi non lo so ma qua c'è una signora non so chi è chi è come si dice dante alighieri diceva o voi che entrate lasciate ogni speranza ecco mi è venuto ora in mente di quanti cazzi ti entrano a te e ormai hai lasciato tu la speranza niente io vi saluto vi lascio a quell'inetto pezzo di infango quell'essere inutile che vi spiegherà il film vi farà vedere l'unbox vi farà vedere il dvd io se volete mi trovate solo i fans dove vi faccio vedere faccio vedere la minchia bella lunga lunga non riesce non entra non entra neanche nella scena non entra non può entrare mi dispiace del nostro dottor dracula vi voglio far vedere un po i contenuti questo film lo trovate sia in dvd sia in blu ray io me l'ho sorpreso in quel posto perché non sapevo che c'era il blu ray ho preso il dvd e l'ho pagato lo stesso prezzo del blu ray ma lasciamo perdere vediamo un po cosa ci sta allora ci sta il trailer come vedete i capitoli setup e play film cioè non c'è nessun contenuto extra allora parlando della qualità dvd sono rimasto molto soppreso nel senso che come sempre anche se non dovrei perché quadrifoglio riesce sempre a portare davvero i film di una volta a una qualità mai vista prima non è una sponsorizzazione attenzione e quindi 16 noni un ottimo doppiaggio un audio pulito nitido anche la qualità video davvero alta cioè non sembra neanche certe volte un dvd chissà il blu ray come si vede se qualcuno l'ha comprato mi faccia sapere qua sotto nei commenti ora vi faccio vedere un po il dvd e la custodia ed ecco il dvd si presenta così qua vedete un po alcune immagini del film qualità audio abbiamo pure un 5.1 dolby digital vedete come vi ho detto è 16 noni e qua il dvd peccato che non contiene nessun contenuto speciale davvero un peccato ora parlando del film in sé non l'ho trovato male anzi un po mi ha mandato un po indietro nel tempo nel senso quei film ormai come si dice sdoganati dall'arrivo di stranger things che ormai sembra la la prassi no ragazzini in bicicletta contro un nemico x da battere e dove ci si indaga e dove gli adulti non ti credono mai lanciata sta cosa dalla moda no con il film i gunis e in quel periodo un po un po tutti cercano un po di fare quella miscela lì chi ci riusciva chi meno questa commedia horror l'ho trovata trovata davvero divertente nel senso che ti strappa un sorriso non ridete a crepa pelle però anche il personaggio è davvero inquietante del gelataio c'è sta faccia da schizzato mentale fa venire i brividi poi anche tanti momenti schifosi di lui che tocca il gelato con le mani sporche o il gelato con gli scarafaggi dentro non so come cacchio non si accorga nessuno che all'interno del gelato ci siano queste schifezze a me una volta solo è capitato mi ricordo non penso era gelato mi sembra delle patatine fritte ho visto che c'era un ragno morto nel insieme mischiato con la maionese e il ketchup invece qua se mangliano l'occhi se mangliano e bratte nessuno si accorge di un cazzo si scopre abbiamo questo gruppo di ragazzini composto dal bambino obeso che poi non è obeso e prende e riempito da da gomma piuma cioè non ho capito nel 95 non riuscivate a trovare un bambino non so bello paffutello in carno hanno dovuto prendere un bambino normale e mettergli della gomma piuma ok va bene abbiamo la ragazzina abbiamo i persone diciamo che i ragazzini non sono molto caratterizzati e questa cosa un po mi è dispiaciuto diciamo che il film si concentra molto di più sulla caratterizzazione del gelataio perché il protagonista assoluto è più lui che i ragazzini le musiche mi hanno dato fastidio sinceramente perché sono ridondanti e rompi i coglioni per tutto il film queste musichette no da classico camionetta del gelataio per attirare i bambini un po quasi è voluto fare una cosa un po come un pifferaio magico no che arrivando il gelataio i bambini sono tutti dietro a lui e proprio con questo lui se ne approfitta per fare del male a questi ragazzini quindi inizieranno a scommere dei ragazzini proprio un loro amico di questo nostro gruppetto che facciava una conoscenza quindi loro inizieranno ad indagare e capire se lui è veramente diciamo un un assassino un serial killer capiamo che ha avuto l'uno un passato un po un po così nel senso che è andato a prendere il gelato e gli è stato ucciso il suo gelataio preferito da lì diciamo ha cercato di riprendere l'eredità che gli ha lasciato che gli ha lasciato che il gelatario forse non sapeva manco chi cazzo era lui ma ci si è fissato così tanto che lo venera come fosse un dio ci sono tante parti davvero interessanti effetti speciali che secondo me sarebbero difficili da replicare oggi nel senso ci sono dei corpi fatti in non in computer grafica ci sono teste mozzate e sono teste veramente così realistiche sembrano vere e stiamo parlando del 95 sono stati ricreati giustamente con il calco del viso veramente come vi ho detto quell'arte che ormai sta scomparendo dell'artigiano che ci si metteva lì a creare a modellare con le sue mani i visi le mani e quindi sembrava molto più realistico di quello che abbiamo adesso a distanza di 29 anni da questo film abbiamo anche una fotografia molto suggestiva il film è sempre molto ripresso di ci sono molti esterni quindi non è tutto concentrato tutto su una location quindi abbiamo varie location ci abbiamo location del del gelataio la location dove vive lui il suo laboratorio segreto le flashback diciamo del manicomio le case dei ragazzini e riprese per strada cioè il film cerca sempre di non annoiare mai lo spettatore quindi ti fa vedere tante tante cose proprio per cercare di attirare e tenere alta l'attenzione gli 80 minuti sono scivolati via come fosse veramente niente veramente il film secondo me è godibilissimo anche se ha i suoi difetti non sto parlando di un capolavoro però come un neon maniacs che mi sono visto che avevo comprato in dvd mi aveva fatto davvero schifo non aveva né testa né capo invece qua abbiamo un villain abbiamo dei pronisti che devono combatterlo anche se qualcosa di già visto però almeno ti inizia diciamo a intrippare perché ci hanno un po di personalità soprattutto il villain il gelataio invece in quell'altro film che vi avevo parlato un paio di giorni fa ovvero neon maniacs era un film buttato lì con 12 assassini che neanche uno c'aveva un po di personalità quindi passatemelo fatemelo passare sto film come film almeno godibile poi può piacere o non può piacere lo posso anche capire che non mi può arrivare qua io non sai a me ha fatto schifo lo volevo più violento lo volevo più splatter però ricordiamoci sempre che era un film per ragazzini se vedete dietro quando ho fatto della copertina era vietato ai minori di 14 anni sì si poteva fare qualcosa in più perché ci sono tanti film vietati ai minori 14 anni che la violenza ce n'è molta di più di questo film però per me va bene anche così secondo me se si esagerava diventava un film che non era sostenibile alla visione di un ragazzino secondo me non ci sono scene di nudo quindi anche qua hanno tolto un qualcosa che può sempre non dar fastidio nel senso ai genitori può dar fastidio che i loro figli possono avere queste scene esplicite quindi anche qua viene tolto e anche lì lo diciamo capisco e comprendo anch'io non ci avrei messo se è una commedia horror puntata su dei ragazzini più giovani non ce l'avrei messo una scena di di sesso non ci avrei messo del scene di nudo quindi anche qua sono d'accordo con la scelta fatta nella produzione di questo film io come sempre vi ringrazio se vi va sostenere il canale lasciando mi piace commentando e condividendo il video fate quello che volete iscrivete se non l'avete già fatto e attivate la lampalina così sarete avvisati per ogni video che io caricherò se invece volete fare qualcosa in più qua sotto c'è una wish list dove potete regalami dei film che potrei recensire grazie a voi se invece volete donare qualcosa c'è i super grazie e io apprezzerei tantissimo se volete darmi una mano in più penso che avrà detto tutto ci vediamo un prossimo video ciao 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 ciao